...tecnici, per i quali poi adesso lascerò la parola al Presidente della Commissione Sportiva... ...ci mancherebbe, certo che sì... ...e stato consigliere della società, ma anche rispetto della Commissione Sportiva, perché sono previsti proprio per il golf e per cercare di incrementare l'affluenza dei giocatori e l'interesse nel golf e dei cambiamenti anche sostanziali, oltre che tecnici. Io vi ringrazio a tutti, abbiamo anticipato forse di qualche giorno la serata per gli avuti di Natale, ma è questa un'occasione importante per tutti voi, fare un ringraziamento per la vostra presenza, un ringraziamento anche per la vostra condivisione di queste nostre iniziative e l'apprezzamento che anche già c'è stato. Io sono molto soddisfatto da questo punto di vista, ho sempre invitato tutti a esprimere il loro parere e per quelli che possono essere ulteriori miglioramenti e ulteriori considerazioni. E di questo vi ringrazio e a tutti, auguro a voi e a altre famiglie, fin da ora, gli auguri per il Natale e il prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Scusate, non ho una passione di servizio, perché mi sono sempre fatta...